Si chiamava Michael Komape, era un bimbo del Sudafrica, frequentava la scuola primaria di Malumela nella provincia del nord di Limpopo. E' andato in bagno, però sarebbe morto annegato nella latrina. Una fine davvero terribile, una fine davvero shock per questo bimbo che aveva solo 5 anni d'età. Morto solo perché è andato in bagno, non ce l'ha fatta, il personale medico che ha corso, ha fatto di tutto, ha tentato ogni strada per cercare di salvargli la vita, ma purtroppo il bimbo di soli 5 anni d'età è spirato, un bambino semplice, un bambino piacevole, un bambino che aveva tutta una vita davanti da vivere, come è giusto che sia per tutti quelli della sua età, ma che purtroppo non c'è più. E' stato sottratto all'esistenza umana, è stato sottratto alla vita, è stato sottratto a quello che è il disegno che Dio ci mette in mano, ci mette sulle mani, ci mette appunto concretamente in tasca. Non c'è più il bimbo è morto, il bimbo non ce l'ha fatta, il bimbo non è più tra di noi. E ciò purtroppo è la pura e dura realtà dei fatti. E dunque dico Michael Komape riposa in pace, Amen.